Marcella, ci racconti cos'è Brooklyn? Brooklyn è un allenamento innovativo, arriva dalla Spagna, sono 55 minuti di sessione dove si alternano tecnica al sacco e allenamento funzionale a corpo libero con piccoli attrezzi come il TRX, le handball o il loop band elastici di vario tipo. Cosa ricercavate in una pavimentazione sportiva? Cosa ricercavamo un pavimento che ci permettesse di fare tutto il nostro lavoro, il che vuol dire tecnica al sacco, quindi rotazioni e movimento delle gambe e dei piedi libero, senza però scivolare. Un pavimento che non ti faccia scivolare nel momento in cui fai allenamento in sospensione, che è molto importante, quindi che mantenga la postura corretta all'interno dell'allenamento. Quali sono le tue sensazioni da trainer e che cosa dicono gli utenti? Allora, la mia sensazione da trainer mi dà sicurezza a questo pavimento, perché nonostante appunto bagnato, sudore, non si scivola, ci permette di fare un movimento corretto, quindi di utilizzo dei piedi corretto e soprattutto attutisce molto movimento, quindi sui salti, sui balzi. Ci descrivi il modulo Runflex Strength in quattro parole? Sicuro, confortevole, specifico per l'attività fitness e resistente. Grazie. Grazie a tutti.